Dal nostro inviato nel 1875, Pagnano, il Consiglio Comunale delibera il cambio di nome in Pagnano-Vallassina autorizzato il 24 novembre con regio decreto a firma Vittorio Emanuele II. Dal nostro corrispondente nel 1943, Como è stata completata l'occupazione germanica della provincia iniziata subito dopo la dichiarazione dell'armistizio il 9 settembre, conclusa anche la chiusura della frontiera con la Svizzera. Ora la linea passa alla redazione con l'approfondimento di Paolo Ceruti. All'inizio la forza tedesca nella provincia di Como è composta solo da 400 uomini, ma lo sfascio dell'esercito italiano lascia mano libera nell'occupazione. All'inizio la forza tedesca nella provincia di Como è composta solo da 400 uomini,